Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro appuntamento con le review, infatti dopo aver testato ieri di Natale Ljungberg e Dempsey, oggi è il turno di altri tre giocatori per certi versi sorprendenti. Parliamo di Bayheader, Milito e Minx, quindi mettetevi comodi e gustatevi questa review. Partiamo proprio da Bayheader, che guardate qua, anche in un anno in cui non è propriamente meta, che vi combina grazie alla sua città, come una trottola si gira su se stesso e poi quando deve trovare la porta la trova in ogni modo. Qui con questi tiri a giro, timed, senza timed, piede forte, piede debole, anche se non ha il tratto, fa praticamente quello che vuole. Poi guardate qui quando si deve distreggiare nello stretto come manda praticamente al bar tutti gli avversari possibili e immaginabili. Qua manca il tempo di ricevere il pallone, dal limite si gira e la butta dentro. Sottoporta è qualcosa di incredibile, piede debole, forte forte forte. Quando si tratta di rifinalizzare la butta praticamente sempre in porta. Passiamo invece a Milito, che è la piacevolissima sorpresa di questa review, perché come avete visto dalla clip precedente, palla al piede fa anche dei buoni micromovimenti. Davanti la porta la vede benissimo. Guardate qua che speed boost e che conclusione ad incrociare con il destro. È veramente, credo, la più piacevole sorpresa di tutti i giocatori che ho provato in questo weekend. Ancora una volta qua speed boost e tiro di destra ad incrociare. Qua un tiro che sembra facile ma non lo è, perché davanti la porta lì si rischia di beccare l'autoblock o di tirarla fuori quando si è messi male col corpo. Ancora una volta un tap-in facile ma si fa trovare pronto. E guardate qua con quale rapidità di movimento manda al vuoto gli avversari solo con la levetta per poi fornire assist. Si sente veramente tantissimo l'upgrade che ha avuto nell'agilità. Poi guardate qua altra catosa allucinante che butta sotto l'angolino. Qua addirittura seminava run con questa giocata nello stretto, poi lo salta, rientra sul destro ma la palla scivola fuori. Invece passiamo poi per concludere a Mings, il peggior difensore che abbia mai provato. Si sono perse alcune clip ma guardate qua come con le due si paralizza e va a vuoto. Poi nel recap a breve vi spiego meglio come mi è sembrato. Dunque raga dopo aver testato anche questi altri tre giocatorini. Vi posso dire Mings un metro e 96 normale alto piede sinistro per lui ha un body type che sulla carta visto il suo peso molto più basso rispetto all'altezza doveva tradursi in giocatore spettacolare visto anche l'84 di agilità l'80 di equilibrio e addirittura il 92 di reattività. Invece si traduce nel peggior difensore che io abbia mai provato quest'anno in termini di rapporto qualità prezzo perché ha 83 di accelerazione e 88 di velocità scatto per 86 di velocità complessiva sembra che abbia 70 di velocità. In campo aperto non tiene neanche sua nonna sulla carrozzella. Con l'L2 raga quel 92 di reattività me lo devono spiegare perché vi giuro su dio che sembra che abbia 30. Quando schiaccio L2 è come se lo perdi Mings. Non si muove e penso sia uno degli abomini più assurdi che io abbia provato su questo gioco ma negli ultimi 2-3 FIFA 97 di aggressività dove mi dovete spiegare dove questo coso ha una paura fottuta di tutti gli avversari gli sta proprio lontano a chilometri di distanza se si avvicina è proprio perché magari gli è caduta una banconota all'attaccante. Quindi mi ha fatto veramente ribrezzo. Cioè un giocatore così brutto non l'ho mai provato quest'anno. Veramente avevo alte aspettative mi ha stra stra deluso. Raga gli do uno ma uno proprio di stima perché si meritava zero sto Mings. Non è assolutamente da mettere in nessuna squadra. Non rientra manco probabilmente in una top 50 migliori difensori di quest'anno. Kim Mepè base è più forte. Vi giuro Kim Mepè la carta oro è più forte di questo Mings. Quindi stategli alla larga il più possibile perché è una fregatura di giocatore colossale. Quindi se non si è capito quanto quanto schifo mi abbia fatto. Passiamo ovviamente alle note liete ma non ve lo dovevo ovviamente dire io ma sto beviedere una cosa allucinante. Il solito furetto 4 di skill e 5 di pede debole 8 partite 7 gol un assist no un cartellino giallo niente assist si è trovato solo a finalizzare. Palla al piede non lo so se può esistere un parametro oltre il 99 penso che questo abbia 999 di agilità tra un tiro cancellato un micro movimento è una cosa incredibile. Ha anche un ottimo speed boost con questo upgrade di accelerazione di velocità scatto che devo dire si sentono abbastanza. Finalizzazione impeccabile come al solito nonostante non abbia il tratto del tiro a giro avete visto quanti tiri a giro abbia buttato dentro con piede debole piede forte con time ed senza time ed una cosa impressionante. Passaggio corto buono per scambiare con la punta che magari che ha a fianco con una in un attacca a 2. La forza non lo appesantisce minimamente dribbling ottimo freddezza ottima insomma parliamo del solito beghi header di di assoluto livello che anche se non è propriamente una carta meta visto che sapete che per me i giocatori con 4 di skill sono indietro rispetto a quelli con i 5 di skill negli ultimi due fifa ma anche quest'anno va assolutamente nella top 10 dei migliori 10 attaccanti al momento che probabilmente vi rifarò anche prima dei tots e se avete il pot questo qua per quello che costa onestamente da upgrade ci sta di brutto fortissimo 10 che voto dare a questo beghi header forse 9 e mezzo solo perché non ha il 5 di skill fosse avuto il 5 di skill veramente era 10 e lode penso che sarebbe costato quanto il fenomeno prime fortissimo beghi header ma veniamo a lui raga il principe milito ma avete visto di che giocatore stiamo parlando un metro 83 4 di skill e 4 di piede debole quindi potenziate le mosse abilità 8 partite giocate 6 gol e 2 assist prezzo onestissimo per quello che è questo giocatore perché ha preso un upgrade spaventoso in agilità equilibrio e reattività è vero che c'ha 90 di forza però questa forza vi assicuro l'avete visto non lo appesantisce cioè paradossalmente questo qua un altro po sembrava agile quanto di natale se non di più non c'era mai quel momento in cui inciampava palla al piede anzi quindi veramente una sorpresa è stata quando lo muovevo semplicemente con l'analogico ma poi che speed boost c'ha in campo aperto è un trattore si allunga la palla ma si allunga la palla in maniera positiva nel senso che gli rimane sempre a disposizione per poterla per poterla poi recuperare quindi veramente c'è uno speed boost incredibile davanti la porta finalizza che è una bellezza ha pure il tratto del tiro di precisione che purtroppo non sono riuscito a fare perché puntualmente mi si piazzavano davanti non mi riuscivano a far partire la conclusione da fuori però veramente mi ha mi ha stupito anche degli ottimi passaggi per per scambiare compagni paradossalmente vista la facilità di gamba e di corsa che c'ha si può anche pensare di provare da esterno se volete provare a spammare cross sulla lanci sul giocatore che arriva sulla sull'auto opposto dentro l'area di rigore per colpire veramente non mi non mi aspettavo un un giocatore di di questo livello e secondo me all'interno dei giocatori che sono stati rilasciati questa settimana la più grande sorpresa perché mi aspettavo anche complice il body type e tutto quanto un giocatore molto più piantato a terra e che soprattutto non avesse questa freddezza sotto porta sotto porta non sbaglia niente cioè se la palla gli arriva la butta dentro quindi a lui gli do ma gli do un bell'otto e mezzo va pure a lui non gli do un nove perché nove veramente andiamo nell'elite totale però un otto e mezzo secondo secondo me se lo merita stile intesa motore per facilitare ancora di più magari il discorso relativo ad agilità equilibrio e tutto quanto però straconsigliato anche il principe raga anche per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori e soprattutto se c'è ancora qualche altro giocatore di questa promo che vi può interessare vedere io vi ricordo in descrizione tutti i link e soprattutto quello della piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto nel vostro liberoski ciao